E' un maschietto E' ancora in ospedale Lui e la mamma, che al contrario del compagno non fa parte del mondo dello spettacolo, stanno bene Ieri 2 gennaio 2021 La mia vita è cambiata per sempre, ha scritto Debon Murray, l'attore irlandese conosciuto sul grande schermo per aver interpretato il ruolo di Samus Finnegan nella saga di Harry Potter, per annunciare la nascita del suo primo genito Continua dopo la foto, il piccolo, per cui è stato scelto il nome Cooper Michael, è nato dall'amore di Debon Murray per la compagna Shannon M. Cichetri I due hanno cominciato a frequentarsi nel 2018 e da allora non si sono più lasciati Poi lo scorso luglio, sempre su profilo Instagram di lui, è apparso il primo annuncio della gravidanza e il 2 gennaio del nuovo anno è stato appeso il fiocco celeste Continua dopo la foto, Shannon ha consegnato il nostro bellissimo bambino Cooper Michael Murray del peso di 6 libre e 10 ones fa sapere l'attore che ha recitato nella saga fino all'ultimo capitolo Entrambi stanno andando alla grande ora dopo un travaglio molto lungo e pochi minuti spaventosi alla fine Non si è ancora capito che abbiamo il nostro bambino Non vedo l'ora di creare i ricordi più incredibili con Shannon e Cooper mentre iniziamo la nostra piccola famiglia Continua dopo foto e post, e ancora, sono così svalordito da Shannon e ora è la mia eroina Sono così orgoglioso di lei per tutto quello che ha passato Non vedo l'ora di avervi entrambi a casa È così difficile dovervi lasciare entrambi Vi amerò entrambi per sempre fino al mio ultimo respiro Ha concluso prima di essere letteralmente travolto da cuori e felicitazioni 4 gennaio 2021 2 e 1 valla